Salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo episodio di American Amagica Beh cazzo la mia dislessia del merda E ho già cominciato con una bella parolaccia Fantastico, già come se nei miei video non ci fossero contenuti eccessivamente malati Va bene, d'accordo Ok Oh che cavolo, meno male che l'ho visto, dannazione Mi sono pigliata un colpo Cioè mancava solo quella, quella è lava Vabbè non lo voglio sapere Uh uh uh, t'ho beccato idiota Guardatelo come lo becco Tu muori Dai su, lo so che sei là Dai, appari Eccoti là L'ho ucciso? Sì l'ho ucciso Oh, meno male Queste cavolo di cose che sono così semplici e banali, dannazione Dannazione Bella vita Pensavo di poterli No, mi seguono, ok Devo stare Ma che cacchio Ma che cacchio del cacchio Che bello Che bello Perfetto Perfetto Devo riuscidere questo coso Levati dai pol Porco E muori Oh, perfetto Ora devo ammazzare sti cosi Dove è il mio super bastone congelante Di cui io odio tutto Non odio, no, non odio il mio bastone congelante Cosa sto dicendo? Io amo il mio bastone congelante È quella cosa che mi rende tutto più facile Ecco, infatti Ne ho ammazzati due in pochi tempi Ok Perfetto Ogni tanto c'ho un problema col mio mouse Perché c'è un coso qua dentro? Perché? Vabbè Magari può essermi inutile Ecco, punto Vado da qualche parte qui? No, per niente Alice Sali Sali Sali, coraggio Alice Oh, cazzo È rimasta incastrata Alice, sali Dannazione, sali Alice Ti prego Oddio, non sale più No, ti prego, no Alice, sali Ti prego Alice Alice Dannazione Sali 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non voglio andare da quelle parti Allora, di qui Direi che devo andare là dentro Mori, muori, 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 muori Oh, diamine Tutto qui muori si va bene abbiamo capito tutti che vabbè lasciamo stare ok non posso entrare qua dentro strano strano ero convintissima che vabbè fa niente va benissimo così va benissimo così ok vuoi morire gentilmente stupida pedina da 4 soldi grazie come sei gentile vedete ragazzi questa è l'educazione si oh uno è morto perfetto tu muoi tu muori tu volerai morire dai avanti su ok morto un altro è andato e c'è questo che si è impallato tra l'altro ma fa niente giusto tanto Alice chi se ne frega le pedine povere pedine non ce ne frega niente sono abbastanza semplici da ammazzare tutto sommato ora il problema no ogni tanto mi parte il maledizione maledizione ok allora f4 voglio capire bene dove cacchio devo andare perché qui non c'è nessuno non c'è una mazza non spiega una mazza d'accordo qua dentro ah mi fa andare va bene prima non mi facevo andare pal ream reame pallido oh guardate che bello adesso è apparsa una nuova looking glass land looking cercare vetri di landa ah specchi ah ok la landa ho capito ho capito la landa degli specchi quanto ci metti a caricare? ammazza oh sbrigati oh eh pian piano stiamo facendo tutta ci stiamo facendo tutto un giro turistico sì oh ma che bello è tutto in bianco e nello ok d'accordo buongiorno come sta signore? f4 ok va bene perché ho la sensazione di dovevo utilizzare questo cos'è quello? ah mi saluta quindi non mi vuole male che carino dove sto andando qui? non c'è una mazza Alice torna in vita buongiorno signore posso parlare con lei? salve un vescovo? chi è? ok Alice ha scambiato strani sguardi con il vescovo bianco oh cavoli siamo uno scacco ma che figata che figata io andrei di qua non di lì però perché se no come posso notare c'è qualcosa che non va no non posso devo tornare indietro di qui di qui di qui di qui di qui mi posso muovere solo in diagonale cosa sono? una specie di fante? non c'è io qualcosa ne so del gioco degli scacchi non più di tanto però che giro della madonna che giro della madonna allora Alice devo dire che ti dona molto questo abito da papa da papa bianco cose di questo tipo il nuovo pedone il papa si ma adesso mi spiegate per quale motivo dovevo farlo va bene d'accordo ah perché qui non c'è più la stastiera ok d'accordo va bene che bello un mondo in bianco e nero siamo finiti una nuova arma ok non farlo mai più computer ah cosa sto facendo va bene ok ok sono tutti morti che cosa carina yeee non prendere fuoco Alice e non fare cagate ok no questo no l'altro bravo brava Alice brava bravissima bravissima sei geniale sei sempre geniale Alice ok lì ce ne sono altre prima eliminiamo tutto quello che c'è in questa strada di bellissima strada non serve a niente lo stronzo ok che bello poter usare tutte queste cose ah perfetto c'è qualcun altro da queste parti perché ho la sensazione che avrò un'inculata della miseria da queste parti tra qualche minuto va bene comunque questo è un altro pezzo dell'arma probabilmente questi posti sono fatti apposta dopo che wow che cielo Alice che cielo ok prendere un altro aspetta ma questo è il bastone da cricket stiamo scherzando vero va bene ok probabilmente sono deboli a questo si col cavolo vai Alice vai cavallo i cavalli dannazione i cavalli dannazione però non possono salire qui no possono salire qui mi sono sbagliata mi sono sbagliata completamente e prima di utilizzare cose a caso oh uno è morto uno è morto uno è morto uno è morto perfetto perfetto un po' di cuore grazie tu torna qui perfetto ole perfetto sapete una cosa mi sto abituando questa modalità hard pensavo peggio in realtà non è neanche così assurda come pensavo niente di grave insomma diciamo normale c'è di peggio insomma cioè all'inizio mi ha fatto sclerare di brutto ma poi boh non so è andato tutto opposto boh allora bello l'orologio che va in giro così perfetto questo mondo oh cazzarola 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 ti ammazzo mio dio mi ha fatto l'imboscata mi ha fatto l'imboscata quel pezzo di merda merda devo rifare tutto da capo aspettate un secondo oh l'ho ucciso maledetto bastardo allora ho visto ok sono tutto piena di vita perfetto salve buongiorno beh comunque dovrebbe essere mio amico perché noi stiamo giocando coi bianchi posso andare di qua no quindi mi sono sbagliata non è da questa parte che devo stare va bene d'accordo non c'è nessun problema mentre combattevo ho visto qua la porta che si apriva e ho visto quello ecco il punto appunto muori muori stupido vediamo se posso anche oh mio dio mi sono spaventata di brutto perché mi stava venendo addosso non può pezzo di merda lo so che mi farete poi un'imboscata però io adesso io sfrutto tutto questo sfrutto tutto questo bellissimo quantitativo di cose cazzarola oh ma quanto ci vuole per ammazzarti vieni qui che ti ammazzo oh alleluia è morto come faccio per no fermo fermo torna giù torna giù ok devo salire qui immagino no su forza coraggio ci sono tante belle strade da percorrere ok perfetto ok un po' per volta diciamo ecco ma cazzo è un labirinto gente è proprio un vero proprio un labirinto sembra quasi però tutto questo bianco e nero devo dire che non mi dispiace che è sto rumore ah ecco ok f4 per sicurezza ah ecco pronte cazzarola vabbè ok non mi hanno fatto niente nonostante me ne sia beccati in faccia Alice è bestialmente potente mio dio cos'è quella cosa mio dio cosa cavolo schifoso oh dio ci è mancato pochissimo mio dio ci è mancato pochissimo ok 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 sono salva e sono viva sono viva i vescovi rossi maledizione oh siamo finiti nel vaticano scacchiera nella scacchiera del vaticano dannazione oh dio calma 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 Alice calma è tutto sotto controllo completamente sotto controllo eh sti cazzi appunto che saltano per aria questi cosi oh meno male che sono riuscita ad ammazzarlo prima che mi ripigliati un po' di energia vai 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 ci sono varie strade devo dire che ci sono varie strade ehi ciao amico tu sei con me vero oddio merda 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 poveri noi poveri noi poveri noi ha ucciso il mio amico avete visto no ha ucciso il nostro il nostro io sto andando totalmente a caso tra l'altro non so neanche dove cazzo io sono vedo qualcosa però lì le carte sì saranno utilissime le carte di qua non si va mamma mia ma lì c'è tutta piccola giocavi per casa scacchi no perché sinceramente io non capisco su questa passione mi sembra eccessiva è un gioco così mentale poi c'è una bambina di quanti mi fa qualcosa ecco mi alza perfetto mi può essere utilissimo c'è qualcosa qui di bello vedo qualcuno no ok perfetto non fatemi imboscate vabbè vai con la vai con con questo coso che non so cosa farà ok cos'è successo eh ho aperto una finestra e ora verrò uccisa da una mariade di cose che cercheranno di ammazzarmi di qua c'è qualcuno ah no di lì ho fatto da dove sono arrivata ok e lì è dove devo andare perfetto ok con l'alice corri ouch cazzarola oh perfetto congelati ma qual è la regina sì è la regina non ucciderai la regina non ucciderai la regina oh no aspetta la torre in realtà grazie grazie amico di niente io combatto per la regina e per gli scacchi sì 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 va bene va bene tu intanto seguimi che mi sarai molto utile ecco ti qua cavallo sì è arriva oggi eh me la son cavata perfettamente da sola allora da dove arrivano i nemici la regola vuole che da dove arrivano i nemici bisogna andare vabbè io vado a pigliarmi le mie robe intanto eh prego faccia con comodo nemico oh porca puttanica poi saltano fuori dal nulla tu dove stai vieni a dargli una mano porca vacca ma cazzarola sì muoviti pure eh oh sei utile come un niente come un koala praticamente sei utile quasi rischiato di morire dai su cazzarola ma veramente il bastone è qualcosa di eccezionale ma ma davvero c'è sempre un sacco di robe ho paura di questo punto il cavallo cavallo cavallin cavalletto iii trasformati in me iii ma perché mi devo trasformare in un cavallo eh beh chi lo sa ma posso attaccare no ah devo sempre ricordarmi che io mi muovo l quindi uno due tre poi così esatto di qua poi di qui ritornando indietro andando dritto e facendo così non è così complicato come pensavo eh meno male che culo direi che abbiamo finito vero sì esatto perfetto eh che cavolo star trek ma dannazione oh meno male ok qui c'è qualcosa di importante aspetta che qui si sale da qualche parte che non so non so cosa sia quello e come ci si raggiunga dannazione mi stavano per chiudere mi stavano per chiudere fan culo a tutti ah allora stupide pedine non valete una mazza non siete neanche tanto forti e non farti beccare qui Alice se no è la fine è la fine è la fine oh ora si ragiona gente si ragiona d'accordo d'accordo siamo nel reame del cavallo ma tu guarda queste partite a scacchi quanto durano quanto sono complicate c'è qualcuno? no? perfetto sto sbagliando pure strada io ho un navigatore nella testa guarda quanto sono qualcuno ok vai ok e anche tu dai 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 muori oh dai ci manca poco dai Alice dai oh alleluia ok perfetto 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 tutto procede per il meglio siamo tutti felici e contenti e guarda un po' cosa qui ma tu guarda un po' tra l'allero tra l'allò no tu non mi farai del male ecco fatto questo bastone è dio è dio è dio questo bastone è dio è dio totalmente completamente e incommisurabilmente dio oh perfetto bene tiriamo la seconda leva e facciamo andare il mulino del mulino bianco che in realtà è grigio ma non facciamoci caso giusto che sta facendo salire petroglio ti prego non dirmi che io devo stare attenta mo no direi di no perfetto siamo a posto va bene gente ma io direi la butto lì eh definirla qui dunque ce le vediamo nella prossima parte in cui andremo a vedere cosa abbiamo attivato cosa abbiamo fatto che cosa abbiamo combinato e perché perché probabilmente perché dobbiamo semplicemente andare avanti però non si sa mai quindi dobbiamo capirlo bene no scusate un solo ho combinato qualcosa no seriamente che cacchio ho combinato scusatemi io non riesco a capirlo vabbè forse lo comprenderemo nella prossima parte vabbè se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace un commento beh se vi va iscrivetevi a sto cavolo di canale io ma io posso tornare indietro sì però è meglio di no se vi è piaciuta questa parte lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al canale e io ciao 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 ciao